Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. Come sapete la sezione bijou di Tessiland è in continua innovazione. Non potevano quindi di certo mancare i distanziatori per poter creare i vostri bijou handmade o per personalizzare le vostre creazioni, unico nel suo genere. Andiamo a scoprirli insieme. Ecco i nostri distanziatori, la cui principale caratteristica è sicuramente quella di essere contornati da una fila di cristalli austriaci dalla forma circolare. Progettati e creati in Italia sono pensati per essere facilmente applicabili, sia che si vogliano utilizzare per dei bijou o per abbellire degli accessori. Come borse e scarpe sono pensati per avere una facile applicazione. Sono infatti tutti dotati di fori da 2 mm, così che possano essere facilmente utilizzati con del filo adatto alle cuciture, quindi ad esempio come il Gutterman o per creare dei bijou, quindi magari con un filato come il Lumina. Questi distanziatori infatti hanno la particolare caratteristica di andare ad abbracciare proprio quelle che possono essere le perline con cui si va a creare un bijou. Come in questo caso in cui abbiamo scelto un distanziatore della misura che si adattasse alla nostra perlina e si crea così una perfetta continuità andando ad abbracciare perfettamente la perlina. I distanziatori sono disponibili sia nella versione argento che in quella oro e nel dettaglio abbiamo il distanziatore quadrato disponibile con misura da 4, 6, 7 e 9 mm. Il distanziatore cerchio disponibile nella misura di 5, 6, 7, 10 e 13 mm. Abbiamo poi il distanziatore esagono disponibile nella misura da 10, 15, 17 e 27 mm. Il distanziatore triangolo disponibile nella misura da 22 e 17 mm. E per concludere il distanziatore mezzaluna disponibile nella misura di 12 e 20 mm. Come abbiamo visto sono disponibili in diverse forme e dimensioni che voi vogliate creare ad esempio delle collane magari un po' più lunghe quindi potrete impreziosirle con questi tocchi di luce che andranno ad essere contrapposte magari a delle perle, ad una lavorazione ad uncinetto o ai vari elementi decorativi che deciderete di utilizzare per la vostra creazione. Saranno facilissimi da utilizzare sia per il bijou con il filo in nylon con il lumina o che voi vogliate applicarli su degli accessori quindi ad esempio delle decorazioni per borse, pochette magari da cerimonia, creare anche dei dettagli nei manici ad esempio o anche delle decorazioni per delle scarpe pensate a delle infradituestive, saranno così perfette anche per le cerimonie o per gli eventi serali. Quindi dei piccoli elementi ma che sono in grado di stravolgere le vostre creazioni. Facilissime da utilizzare quindi adatti sia per gli hobbisti alle prime armi e sia per i più esperti creatori di gioielli fatti a mano. Io come sempre vi aspetto al prossimo Tessilan News ma prima vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, la pagina facebook Meglio di Maglia e il nostro gruppo ufficiale Tessilan, ma anche Instagram, TikTok e Pinterest e non dimenticate il nostro blog dove ogni settimana ci sono tantissime novità. Al prossimo Tessilan News, ciao! Grazie a tutti!